Allora Ele, oggi nuova sfida per te, se riuscirai in una sola mossa a far diventare quattro triangoli vinci in 50 euro! Ma è possibile! Con una mossa? Sì, non ce l'ho mai, sicuro. Eh no, qui sono uno, due, tre. Non lo so! Così? Eh no, non ci sono. Difficile! Eh, dove lo metto, no? Eh, non lo so, l'hai preso tu! Eccoli! No, due, tre, quattro. Sono quattro triangoli aperti e uno è chiuso, no? Questa è la soluzione. È impossibile! Sei in difficoltà, Ele. Io mi arrendo. Lei si arrende. Kate, ci vuoi provare? Sì. Quattro triangoli! Io penso proprio quattro triangoli, non il numero uno! Hai perso! Quattro tämä è quattro! Quattro Wolverine dipisentete! Quattro Clapdo! Hahahahha! Quattro种表are? Quattro persona tu hai! Quattro aver modенio Far più amassato! Quattro ma te dasso e sto dire che hatta! Grazie a tutti.